Tutti i maggiori leader politici sono scesi in campo nelle principali città per sostenere i rispettivi candidati, in quella che si annuncia essere una tornata elettorale al Cardiopalma. Un voto, quello del 15 e 16 maggio, dalla grande valenza politica, visto che coinvolgerà circa 10 milioni di italiani. Attirare l'ultima volata napoletana tra i padiglioni della Mossa d'Oltremare per il candidato sindaco del PDL Gianni Lettieri, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tutto questo, mentre all'esterno dell'edificio sono vibranti le proteste dei centri sociali e dei comitati antidiscarica. Sul versante opposto, l'Italia dei valori di Pietro e dei magistri, per il rush finale, quello decisivo, sceglie invece la rotonda Diaz. Si chiude così tra scossoni e proteste, appelli e proclami, l'ennesima campagna infocata, anzi senza ombra di dubbi al veleno. Intanto, sul fronte ai rifiuti, la situazione è ancora calda. Nella giornata di ieri sono divampati circa 50 rughi nella zona dell'Arenaccia, in via Salvatur Rosa, dove tre persone sono state fermate. Disaggia anche a Pianure e Soccavo, il più in generale in diversi quartieri della periferia occidentale. Previsto inoltre nella giornata odierna l'intervento dell'esercito per scongiurare una nuova emergenza.